Vede via la palla nelle mani di Danilo Gallinari, fita di tiro e poi tiro di Marco Bellinelli! La tripla dopo i liberi e dopo il rimpazzo miracoloso! Ticciarini nell'angolo, blocco da parte di Danilo Gallinari, accelerazione di Bellinelli, missile per Bargnani, stupendo! Poi Gallinari che lascia lì Reyes, Bellinelli, piedi per terra! Grand'Italia a Berlino! Time out! I dei del basket apertamente schierati in questo momento con l'Italia, perché l'Italia li sta onorando da centrocampo Bellinelli! Eccoli l'idea del basket! Dentro tabellone, fuori tabellone, poi dentro ancora! E adesso doppia cifra di battaglia! Per Bellinelli in pick and roll alto con Cusina, ancora Bellinelli inforzato da tre! Segnato da tre! Batte forte il cuore dell'Italia! Batte ancora più forte, quello di Marco Stefano Bellinelli! Una volta per l'Italia, possesso importante lo gioca Bellinelli che è appena rientrato dalla punta, va a bloccare Gallinari! Ribas passa dietro sul cambio, Bellinelli contro Mirotic da tre! Morco! Bellinelli! Ancora grande cambio, Bellinelli per giocare l'ultima azione, la gioca come sa far lui, la difesa cambia, Mirotic ci concede un po' di spazio, Bellinelli lo punisce, terzo, quarto favoloso degli azzurri. Bellinelli era 1 su 6 qualcuno da Nilo Gallinari esce libero ruota immediatamente Yul c'è spazio per Bellinelli lo prende da distanza NBA altro tiro altro giro altro regalo Marco Bellinelli nel pick and roll mantiene il controllo riapre avventurosamente per Hackett ultimi 10 secondi insolito pandino Cusin mette la terza lo cerca proprio Hackett Cusin non sa tanto bene cosa fare del pallone Bellinelli allo scadere 3-24 Marco Bellinelli ancora in questo secondo tempo questo è un canestro da fuori classe fuori equilibrio lo scadere ha una fiducia enorme giustamente Gallinari esulta festeggia e quella penetrazione quella chiusura di Cusin sapeva tanto di farlo in attacco subito